Siamo allo stand di Interpivo con Pulcherio Scutti che ci descrive il prodotto di punta di Interpivo che appunto è un Original Pils. Sì, il prodotto di punta dell'Interpivo è questa malastrana Original Pils, una ricetta tradizionale della birra bionda in Repubblica Ceca dove è nata la birra bionda, quindi la patria di questo stile birraio più diffuso che c'è al mondo. Ha una produzione molto semplice, molto tradizionale, senza troppi artifici, tradizione, ingredienti di qualità e poi un servizio fatto come si deve, possiamo avere una birra veramente di livello altissimo e la facciamo assaggiare. Ecco, ad Andrea Camaschella che è giudice di Union Birrai, lei come giudica questa birra? Io la giudico sempre molto bene perché è quella che uso sempre nei miei corsi, se devo descrivere una birra Boema o comunque una birra della Repubblica Ceca uso questa o la Dark, quindi sono i miei due cavalli di battaglia da quel punto di vista, anzi grazie a Malastrana per darmi sempre da bere e bene.